francesco carella classe 2001 per 14 giorni e tra otto ne compira 19 di anni la maggior parte passati sempre con un pallone tra i piedi il calcio come passione inteso come sogni da inseguire dalle giovanili del foggia all'esperienza in serie dico la maglia del franca villa in sinni quasi 400 minuti in basilicata prima dello stop causa covid quindi il ritorno in puglia la virtus franca villa 37 minuti a catanzaro in coppa italia 4 con la turris e una ghiottissima palla gol divorata nel finale 20 minuti contro la casertana 4 con la ternana e poi un tempo intero domenica scorsa sotto il diluvio universale caduto su franca villa fontana contro quell'avellino rimasto innocuo per bravura dei biancazzurri e contro cui carella brillato blindando la fascia destra e quando possibile fiondandosi in avanti ampi margini di miglioramento ed emblema di una virtus franca villa che punta fortemente sui giovani carella c'è è un elemento importante del gruppo ed è pronto a sbocciare come varicecio a castorani mastro pietro ed è cuban un'altra parte di 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 un